Rita, ciao, ascolta, chi è il delineo di futuro? Il mio amico te se li porta a Genova? Il mio amico te lo faccio anche a te. Sì, 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 domani mattina me li vengo a prendere, prima che vai a misa. Ha avuto un fulmino in merda? Ha avuto un fulmino in merda? Ha avuto un fulmino in merda? Eh, perché domani parte ma ha detto no, non dammi che me li faccio brillanti. Certo, guarda, con i dirita. La fine è giusto di ridire, se ci riesco a mandare. E ridi? Va bene, Rita. Sembri Mona Lisa, sì. Ciao, Rita, ciao, ciao. Ok. Sorella! Bye. Grazie.